Tensione altissima in Medio Oriente, vertice tra Hamas, Hezbollah e i jihad islamica in Libano. Il presidente turco Erdogan afferma miliziani liberatori non terroristi. A Gaza oltre 700 morti in 24 ore. La premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo ribadito il sostegno a Israele e Ucraina, dettata la linea sulla transizione, approccio pragmatico per rafforzare la competitività. L'Istat disegna un'Italia più povera per colpa dell'inflazione. Nel 2022 oltre 2 milioni di famiglie, l'8,3% del totale in indigenza assoluta. L'incidenza al sud sale al 10,7%. Borsi europee deboli, cresce l'attesa per il vertice della BCE di domani. Gli analisti attendono una pausa nella stretta sui tassi. Lo spread risale oltre i 200 punti. Terremoto di magnitudo 4,2 in Veneto. Scossa registrata nel primo pomeriggio in provincia di Rovigo, ad una profondità di 9 km, non segnalati danni significativi a cose o persone. Buonasera. Partiamo con una notizia di questo pomeriggio terremoto di magnitudo 4,2 in Veneto. La scossa si è verificata attorno alle 15.45 nei pressi di Ceneselli, in provincia di Rovigo, ad una profondità di 9 km, ed è stata avvertita nettamente non solo nella zona sud orientale della regione, ma anche in Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Al momento non sono stati segnalati danni significativi a cose o persone. Passiamo ora alla crisi in Medio Oriente, dove resta altissima la tensione. Nelle scorse ore i raid israeliani su Gaza hanno causato la morte di oltre 700 palestinesi, portando così il bilancio totale a circa 6.500 vittime e 17.500 feriti. Israele ha attaccato oggi anche obiettivi in Siria, in una guerra i cui confini appaiono sempre più indefiniti. Si è tenuto in Libano un vertice tra alti rappresentanti di Hezbollah, Hamas e Jihad islamica, mentre lo scontro tra Israele e ONU, scoppiato dopo le parole del segretario generale Antonio Guterres, è culminato nella decisione di negare il visto d'ingresso nel paese ai funzionari delle Nazioni Unite. E ha causato numerose reazioni e polemiche. Oggi la presa di posizione del presidente turco Erdogan, che ha definito i militanti di Hamas come dei liberatori che combattono per la loro terra e non dei terroristi, aggiungendo che a Gaza sono stati commessi crimini di guerra premeditati. Torniamo in Italia e veniamo alla politica interna. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi alle Camere per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, che prenderà il via domani a Bruxelles. Diversi i temi trattati, a partire dal conflitto in Medio Oriente, con la Premier che ha ribadito il sostegno ad Israele, ma anche ai civili di Gaza e ha rinnovato l'appello per un immediato rilascio degli ostaggi. Un mondo in cui non esistono più linee rosse imbalicabili è un mondo insicuro per tutti, ha affermato Giorgia Meloni, precisando come sia necessario inoltre continuare a sostenere il popolo ucraino, il cui futuro è nell'Unione Europea. Ampio spazio nel suo intervento poi al tema delle migrazioni, correlato anche all'allarme terrorismo di nuovo scoppiato in Europa e dunque alla sospensione del trattato di Schengen. Ma la Premier ha parlato anche del Green Deal, sottolineando l'esigenza di ridurre la dipendenza da paesi terzi senza tuttavia imporre tappe forzate che si riperpoterebbero negativamente sui cittadini. Ascoltiamo in merito uno stralcio dell'intervento di Giorgia Meloni. Il Governo continuerà a sostenere in sede europea la necessità di un approccio pragmatico e non ideologico alla transizione, che noi vogliamo impostata su valutazioni di impatto ampi e affidabili, su criteri di gradualità e di sostenibilità economica e sociale, sul principio di neutralità tecnologica e su strumenti finanziari di incentivazione e di accompagnamento per le imprese e per i cittadini. La doppia transizione, se ben impostata, può essere uno straordinario strumento per rafforzare la competitività europea, oppure, al contrario, se perseguita con un approccio miope, può portare a una irreparabile desertificazione industriale del nostro continente. E noi questo non intendiamo permettere. Via libera definitiva oggi della Camera con 163 voti a favore al disegno di legge delega sulla revisione degli incentivi alle imprese. L'obiettivo è razionalizzare e semplificare l'offerta di incentivi, evitando sovrapposizioni e frammentazioni del sostegno pubblico. Il testo prevede inoltre la velocizzazione dei procedimenti amministrativi attraverso l'implementazione di soluzioni tecnologiche. Intanto, dalla prima bozza disponibile, emergono maggiori dettagli sulla seconda manovra del governo Meloni, che dovrebbe giungere in Parlamento nei prossimi giorni. Vediamo il servizio. Prende forma a dieci giorni dal Varo in Consiglio dei Ministri la seconda manovra targata Meloni-Giorgetti, che riserva più di una sorpresa da svariate nuove tasse all'obbligo per le imprese di assicurarsi contro le calamità, passando per il mini tesoretto per il Parlamento da 200 milioni, fino al contributo alla spending review, che supererà il mezzo miliardo l'anno anche per gli enti locali. E tanto è importante mostrarsi virtuosi nel contenimento delle spese, anche in vista delle pagelle e delle agenzie di rating, che rispunta, ma è ancora tutto da vedere, anche il blocco del turnover per la pubblica amministrazione. Per ora è solo una voce non ancora declinata nella prima bozza circolata di un testo che assicura il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, arriverà a breve in Senato. Se aumenta di un poco la rivalutazione per gli assegni medi, si riducono dall'altro gli scivoli per i nuovi pensionandi, con un aumento dei requisiti per l'anticipo pensionistico e opzione donna, che comunque rimangono anche nel 2024, così come per quota 104, che vede anche una riduzione dell'assegno nella parte retributiva. Anche chi è tutto nel contributivo non potrà andare facilmente in pensione anticipata, visto che per uscire a 64 anni servirà avere maturato almeno 3,3 volte l'assegno sociale. In più, chi punta alla pensione anticipata dovrà fare i conti con l'adeguamento all'aspettativa di vita che ripartirà già dal 2025 anziché dal 2027. L'Italia è sempre più povera. Questa è la fotografia dell'Istat che nel report annuale sulla povertà ha evidenziato che nel 2022 erano in condizione di indigenza assoluta oltre 2 milioni di famiglie, l'8,3% del totale, rispetto al 7,7% del 2021. Un peggioramento secondo l'Istat imputabile alla forte accelerazione dell'inflazione e che conferma il divario tra nord e sud. L'incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma infatti più alta nel mezzogiorno dove sale al 10,7%, 6 decimali in più rispetto all'anno precedente. La povertà non risparmia i più giovani. Nel 2022 sono 1,27 milioni minori in difficoltà economica. Stringendo ancora il campo di indagine risultano più povere le famiglie giovani poiché dispongono di redditi mediamente più bassi e di minori risparmi e le famiglie con basso titolo di studio. Vediamo insieme come questa fotografia si riflette sul carrello della spesa degli italiani. I consumi delle famiglie italiane sono fermi ma sono sempre più cari a causa dell'inflazione. Nel 2022 la spesa è stata in media di 2.625 euro a famiglia, l'8,7% in più rispetto all'anno precedente, ma la crescita in termini reali, spiega l'Istat, risulta pressoché nulla. È calata del 2,5% per le famiglie meno ambienti ed è aumentata dell'1,8% per le famiglie con maggiore disponibilità economica. Il caro Vita gela i consumi degli italiani, costringe le famiglie a spendere di più per acquistare meno. Nell'analisi dell'Istat aumentano i divari fra nord e sud, tra più ricchi e più poveri e quelle famiglie che sembrano essersi adattate alle sfide della fiammata inflazionistica cambiando le abitudini di spesa. Ora si risparmia anche sulla spesa alimentare e mentre nel 2021 erano state tagliate soprattutto le spese in viaggi e vacanze, si è passati nel 2022 a ridurre di più anche acquisti più essenziali. Borse europee deboli oggi a pesare sui mercati, l'attesa per il vertice della BCE di domani per il quale gli analisti attendono una pausa nella stretta monetaria e le tensioni in Medio Oriente. Lo spread intanto è tornato a crescere oltre i 200 punti. Ma passiamo ora alle recenti stime macroeconomiche di Eurostat dalle quali emerge un aumento del debito italiano. Risale il debito pubblico dell'Italia e va al 142,4% del PIL nel secondo trimestre unica tra i grandi paesi dell'Unione Europea a non ridurlo. Si dimezza invece il deficit italiano nei tre mesi benché resti il secondo più alto nell'Unione pur con dati ancora non corretti per il ciclo. Si conferma però la stima per l'intero 2022 che ha visto il disavanzo italiano all'8% e ai massimi in Europa. I dati aggiornati saranno ora tra quelli presi in esame dalla Commissione Europea per le previsioni economiche d'autunno che verranno annunciate il 15 novembre. In attesa il 21 novembre dei giudizi dell'esecutivo comunitario sulle manovre di bilancio nell'Eurozona per il 2024. Quando ci si attende torneranno in vigore le regole del patto di stabilità sospese da inizio pandemia. Il debito dell'Italia, secondo la fotografia fornita da Eurostat, è risalito nel secondo trimestre dopo che era sceso nel primo al 140,9%. Nell'Eurozona è calato al 90,3% del PIL dal 90,7% e nell'Unione Europea all'83,1% dall'83,4%. Il debito non è salito per nessuno dei grandi paesi dell'Unione Europea anche se in Grecia è oltre i livelli dell'Italia. Sono oltre la soglia del 60% del debito sul PIL prevista dai trattati ben 13 paesi Germania inclusa. Per l'intero 2022 la stima aggiornata Eurostat segnala un debito in calo al 91% del PIL dal 94,8% nell'Eurozona. Nell'Unione Europea è sceso all'83,5%. In Italia il debito è calato al 141,7% dal 147,1% del 2021 e dal 154,9% nell'anno del Covid. Ora una serie di notizie su trasporti e logistica. La transizione verso l'elettrico pone a un bivio il comparto dell'automotive italiano. Secondo un'indagine recente infatti meno della metà delle aziende automobilistiche nazionali è pronta alla svolta green prevista nel 2035. Meno della metà delle aziende italiane della filiera auto è già orientata alla produzione di componentistica per veicoli ad alimentazione elettrica e a idrogeno mentre il 16,4% valuta l'uscita dal settore in vista della scadenza del 2035 anno dello stop delle vendite di automobili nuove con motore endotermico. Per un'impresa su 10 abbandonare è l'unica opzione possibile. È il quadro che emerge dall'osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilità indagine della Camera di Commercio di Torino e dell'Anfia a preoccupare le imprese che chiedono incentivi a sostegno della domanda e anche il crescente ruolo della Cina nel panorama globale dell'auto e dell'entrata nel mercato europeo dei produttori cinesi principalmente di auto elettriche e ibride. Nel complesso la componentistica automotive oggi gode di buona salute. Il 72% delle aziende che hanno risposto all'indagine annuale ha registrato nel 2022 un aumento del fatturato per la metà superiore al 10%. L'export del settore conferma il trend di crescita aumenta dal 78,3% all'80,7% la percentuale delle imprese che vendono i propri prodotti sui mercati esteri così come la quota di fatturato automotive riconducibile a tali vendite che rimasta sotto il 42% negli anni precedenti raggiunge il 46%. Si svolgerà domani al Ministero dell'Istruzione la cerimonia di costituzione di Resil la rete delle scuole italiane di logistica fondata per volontà di circa 40 istituti di formazione della penisola un cluster strategico per il comparto della logistica che grazie alla cooperazione diretta tra imprese e istituti consentirà di matchare sempre più puntualmente domanda e offerta di lavoro nel comparto presenzieranno l'evento il sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti vari esponenti del mondo istituzionale e dell'impresa presente anche Alice con Niccolò Berghins a conferma del grande impegno della nostra associazione nei confronti del futuro del settore e continuiamo a parlare del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro nel settore dei trasporti e della logistica con particolare riferimento alla gravosa questione della carenza di autisti di mezzi pesanti il comitato centrale dell'albo nazionale degli autotrasportatori e il ministero dell'istruzione del merito hanno predisposto un bando destinato alla formazione degli studenti dei centri provinciali di istruzione per gli adulti l'iniziativa è volta a incentivare cofinanziandolo il conseguimento presso autoscuole o enti di formazione autorizzati della patente di guida di categoria cce e della patente professionale cqc per il trasporto di merci esteri ci spostiamo in ucraina dove continua la controffensiva delle truppe di chiev impegnate nella riconquista dei territori occupati dai russi nella giornata di ieri l'esercito ucraino è riuscito ad avanzare nelle regioni di bakhmut e zaporizia mentre oggi nuovi progressi sono stati fatti a Kherson progressi che non interessano solo il fronte di terra secondo il leader ucraino Volodymyr Zelensky anche la flotta russa sembra soccombere alla rappresaglia intanto continua la scia di morti misteriose che sta interessando personalità vicino al Cremlino storicamente orgoglio del Cremlino oggi la flotta russa è più in difficoltà che mai la marina di Mosca non è più in grado di operare nel mar nero occidentale e sta gradualmente abbandonando la Crimea ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky in occasione del secondo vertice della piattaforma Crimea avvertendo che le loro navi non hanno più alcun rifugio sicuro e quanto alla penisola annessa dai russi nel 2014 ha assicurato che la totale superiorità di Kiev è solo questione di tempo fronte di combattimenti a parte la notizia più rilevante che arriva da Mosca sembra essere quella della morte improvvisa del 66enne Vladimir Nekrasov capo del consiglio di amministrazione di Lukoil il terzo dirigente della compagnia petrolifera scomparso dall'inizio della guerra anche altri oligarchi e funzionari pubblici russi sono scomparsi in circostanze poco chiare come il vice ministro della scienza Piotr Kucerenko che si era schierato contro l'invasione dell'Ucraina ed è deceduto dopo un malore in volo a 46 anni proprio la Lukoil in modo insolito rispetto alle aziende russe poche settimane dopo l'inizio dell'invasione aveva espresso in modo pubblico la propria preoccupazione per i tragici eventi in Ucraina e aveva chiesto la fine quanto prima possibile del conflitto armato attraverso negoziati morti misteriose che hanno posto legittimi interrogativi sull'entità del dissenso interno in Russia una bomba nascosta in un trasportino per gatti portato da una bambina di 12 anni da sua madre gli 007 ucraini riuscirono così a far entrare in Russia l'esplosivo usato per uccidere Daria Dugina proprio le spie di Kiev sono infatti dietro l'uccisione della figlia del nazionalista Alexander Dugin ma anche del blogger pro-Russia Vladen Tatarsky morto in un bar di San Pietroburgo queste rivelazioni pubblicate dal Washington Post non vengono commentate da Kiev tutti i dettagli delle operazioni segrete di alto profilo saranno discussi dopo la vittoria fa sapere il servizio stampa del servizio di sicurezza assicurando che la SBU continuerà a compiere qualsiasi sforzo per cacciare gli occupanti dal territorio e porre fine alla guerra con la vittoria quella che gli 007 di Kiev stanno conducendo è una sorta di guerra ombra forti della formazione dei legami della CIA le spie ucraine sono in prima linea nella battaglia e alcuni successi li hanno ottenuti oltre a Dugina e Tatarsky hanno ucciso diversi comandanti russi e sono andati vicinissimo a colpire Valery Gerasimov il capo dello stato maggiore delle forze armate russe stiamo assistendo alla nascita di servizi di intelligence come quelli del Mossad negli anni 1970 afferma un funzionario della CIA riferendosi allo spionaggio israeliano al quale vengono attribuiti omicidi mirati in altri paesi sono state interrotte la scorsa notte le ricerche dei quattro marinai dispersi nella collisione fra due cargo in acque tedesche del mare del nord avvenuta ieri sale dunque a 5 il bilancio delle vittime vengono infatti considerati deceduti i quattro marinai a bordo della nave inglese Verity mentre un altro era stato recuperato ieri senza vita tutti i lesi invece i 22 passeggeri della Bahamense Polesi restano da chiarire le cause dell'incidente dai primi rilievi emerso che l'istantaneo affondamento della Verity dopo la collisione possa essere stato causato dal carico del mercantile consistente in lamine d'acciaio veniamo ora alla questione del Baltic Connector il gasdotto sottomarino tra Finlandia ed Estonia inutilizzabile da inizio ottobre a causa di un grave danneggiamento le autorità finlandesi avrebbero recuperato dai fondali l'oggetto responsabile del danno alla condotta confermando le ipotesi emerse sin dall'inizio e che attribuivano la rottura dell'infrastruttura all'azione di una forza esterna si tratta di una grande ancora che secondo gli inquirenti di Helsinki sarebbe stata trascinata per chilometri da una nave porta container cinese la New New Polar Beer un danno che potrebbe essere il risultato di un sabotaggio deliberato seppur al momento non possa essere esclusa l'ipotesi di incidente chiudiamo il nostro telegiornale con l'ondata di maltempo che nelle ultime ore sta sferzando gran parte dell'Italia 14 le regioni interessate dalle allerte meteo diramate dalla protezione civile per la giornata di oggi dopo i violenti nubi fragili allagamenti che hanno interessato ieri Liguria e Toscana e allarme arancione oggi in Friuli e Emilia Romagna a causa delle persistenti piogge che hanno causato frane e inondazioni non meglio nel resto d'Italia dove l'allerta è stata decretata gialla per 12 regioni soprattutto sul versante tirrenico situazione ancora difficile a Roma dove ieri si è abbattuto un violento nubifraggio accompagnato da forti raffiche di vento e caduta di alberi ma una tregua è dietro l'angolo da domani infatti il maltempo dovrebbe abbandonare la nostra penisola regalandoci tempo stabile almeno fino al weekend era questa l'ultima notizia della giornata grazie per l'ascolto appuntamento a domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News buon proseguimento di serata grazie per la visione